Buongiorno cari amici del mio cuore, siamo tornati con la nostra umili lettura del Vangelo secondo lo Spiritismo, un libro scritto da Allan Kardec e gli Spiriti. Oggi preghiamo la preghiera agli Angeli Custodi, scritta da Allan Kardec. Questa è la preghiera. Spiriti sapienti, i benevoli, messaggeri di Dio, la cui missione è di assistere gli uomini e condurli sulla retta via. Mi sostengono nelle prove di questa vita. Dammi la forza di subirli senza i rimpianti. Allontana da me i pensieri malvagi e fa che non dia accesso a nessuno degli spiriti maligni che cercherebbero di indurmi al male. Chiarisci la mia coscienza sulle mie colpe e togli dai miei occhi il vello di superbia che potrebbe impedirmi di percepirli e di confessarli a me stesso. Soprattutto tu, mio Angelo Custode, che mi prende cura più particolarmente, e tutti voi, spiriti protettori, che mi interessate, fatemi degno della vostra benevolenza. Tu conosci i miei bisogni, siano saziati secondo la volontà di Dio. Dio mio, permetti agli spiriti buoni che mi assistono di aiutarmi quando mi trovo nelle difficoltà e di sostenermi nelle mie esitazioni. Signore, che mi ispirino fede, speranza e carità siano per me sostegno, speranza e prova della Tua misericordia. Fa infine che io trovi in loro la forza che mi manca nelle prove della vita e di resistere ai suggerimenti del male, alla fede che salva e all'amore che consola. Amati spiriti, angeli custodi, voi che Dio, nella sua infinita misericordia, permette di vegliare sugli uomini, sia te nostro sostegno nelle prove di questa vita terrena. Donaci forza, coraggio e rassegnazione. Ispiraci sulla via del bene, fermandoci sulla china del male. Lascia che la Tua dolce influenza permee le nostre animi. Facci sentire la presenza al nostro fianco di un amico devoto, che guarderà le nostre sofferenze e condividerà le nostre gioie. E tu, mio buon angelo, non lasciarmi mai. Ho bisogno di tutta la Tua protezione per sostenere con fede e amore le prove che Dio vuole inviarmi. Amen. Ebbene, oggi riflettiamo su questa domanda. Cosa significa vendetta? La vendetta. Istruzioni degli spiriti. La vendetta. La vendetta è l'ultimo relitto lasciato dai costumi barbari che tendono a cancellarsi fra gli uomini. È con il duello una delle ultime vestigie di quegli usi selvaggi sotto i quali si dibatteva l'umanità all'inizio dell'era cristiana. Perciò la vendetta è un indizio sicuro dello stato arretrato degli uomini e degli spiriti che ancora possono ispirarla. Pertanto, amici miei, questo sentimento non deve mai fare vibrare il cuore di chiunque dica ed affermi di essere spiritista. Sapete che vendicarsi è tanto contrario a questa prescrizione di Cristo. Perdonate ai vostri nemici. Che colui che si rifiuta di perdonare non solo non è spiritista ma non è nemmeno cristiano. La vendetta è un'espirazione tanto più funesta che la falsità e la bazzezza. Sono sui indivisibili compagni. Infatti, chi si abbandona a questa cieca e fa tale passione non si vendica quasi mai in pubblico. Quando è il più forte salta addosso come una bestia feroce a colui che chiama il suo nemico e la cui vista ha infiammato la sua passione, la sua colera, il suo odio. Ma più di frequente prende un aspetto ipocrita dissimulando nel più profondo del cuore i sentimenti cattivi che lo animano. Viene per vie oblique, seguendo nell'ombra il suo nemico che non diffida e aspetta il momento propizio per colpirlo senza correre pericolo. Si nasconde, spiandolo sempre. Egli tende odiosi tra nelli, avvelenando che se ne ha occasione la sua bevanda. Quando il suo odio non arriva a questi eccessi, allora lo insidia nel suo onere e nei suoi affetti. Non indietreggiano di fronte alla calugna, con perfide insinuazioni, abilmente sparsi ovunque e che aumentando nel diffondersi. Così, quando colui che sta perseguitando si presenta in un ambiente dove il soffio avvelenato della sua calugna è passato, è stupito dal trovare fredde accoglienze là dove prima aveva volti amici e benevoli. E' sorpreso quando le mani che prima cercavano la sua si rifiutano adesso di stringerla. E finalmente è annientato quando i suoi amici più fidi e più cari si allontanano da lui e lo sfuggono. Ha! Il vigliacco che si vendica così è cento volte più colpevole di chi affronta il suo nemico e l'insulta a viso aperto. Basta dunque con questi costumi selvaggi, basta con questi usi di altri tempi. Qualsiasi spiritista che ancora oggi pretendesse di avere il diritto di vendicarsi sarebbe indegno di far parte della falange che ha preso per divisa. Al di fuori della carità non v'è salvezza. Ma no, io non posso credere che un membro della grande famiglia spiritista possa mai cedere in avvenire all'impulso della vendetta se non con il perdono. Questo ha detto lo spirito di Jules Olivier a Parigi a 1862. Ebbene, abbiamo terminato la nostra lettura per oggi. Spero che ti sia piaciuto tanto quanto me. Dio vi benedica a tutti. Baci. Ciao. Ciao.